Le polemiche sollevate dall'On. Luigi Vitali sono inutili. Lo scopo, per quanto mi riguarda, è quello di lavorare per l'allargamento del centro-destra e ritengo che l'Unione di Centro continui a rappresentare un interlocutore naturale in quest'ottica, a brindisi come altrove. Con queste parole, il sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, chiude la bagarre politica sollevata dall'esponente del PDL nelle scorse ore, all'indomani della sua partecipazione al congresso provinciale dell'Udc. Personalmente non gradisco la polemica, a maggior ragione se interna, e mi dispiace quando ciò accade. L'On. Vitali non ha perdonato al collega di partito l'aver presenziato sabato scorso al fianco del Presidente della provincia Massimo Ferrarese, che a suo dire non perde occasione per attaccare e delegittimare gli esponenti provinciali del PDL. Non vedo dunque per quale ragione avrei dovuto disertare l'evento congressuale dell'Udc, conclude nella nota Mantovano, così come avviene per tutti i congressi delle forze politiche, su Gentile e Invito. Un gesto di cortesia, ma ripeto, siccome a me non piace scadere in questo tipo di polemiche, non aggiungo altro sulla vicenda. Ed intanto il grande assente alla convention dei centristi, o proprio curto, ha indetto per sabato 5 novembre alle 10.30 presso la sala Mario Marino Guadalupi di Brindisi, una conferenza stampa alla presenza del coordinatore regionale del Futuro Libertà, l'On. Francesco Di Vella, per ufficializzare sembra la sua entrata nel partito di Fimi.